Il Comune di Roma ha pubblicato divieti e servizi in vista della gara di stasera all'Olimpico Roma. Il Comune di Roma ha pubblicato il piano del trasporto pubblico in vista della gara di stasera allo Stadio Olimpico tra Roma e Liverpool. Dalle 20,45, all'Olimpico, la semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool. Divieti di sosta e possibili chiusure al traffico. Il Foro Italico è servito da Il Tram 2 Piazzale Flaminio barra metro a Piazza Mancini dai bus di 23 Marconi Ostiense barra metro B Garbatella Piazzale Ostiense Prati Piazzale Clodio, 31 Laurentina barra metro B Eurmagliana barra metro B Colli Portuensi Valle Aurelia barra metro a Piazzale Clodio, 32 Ottaviano barra metro a Stadio Olimpico via Flaminia Stazioni 2 Ponti Grotte Rossa e Sazza Rubra della Ferrovia Roma Nord, 69 talenti Ionio barra metro B 1 Prati Fiscali Stadio, 70 Stazione Termini Centro Prati Piazzale Clodio, 200 Stazioni Prima Porta, Saksa Rubra, Grotte Rossa e due Ponti della Ferrovia Roma Nord via Flaminia Corso Francia Stadio, 201 Oggiata Cassia Corso Francia Stadio, 226 Grotte Rossa Cassia Vigna Stelluti Corso Francia Stadio, 280 Stazione Ostiense barra Piramide a metro B via Marmorata Lungotevere Prati Stazione Lepanto barra metro a Stadio, 301 Piazza Augusto Imperatore Prati Lepanto barra metro a Stadio Ponte Milvio Cassia Grotta Rossa, 446 Gornalia barra metro a Pineta Sacchetti via Cortina Danpezzo Orti della Farnesina Stadio, 628 via Baronio barra Appio Latino Caracalla Largo Argentina Prati Stadio, 910 Stadio. Grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori,